Ciao a tutti, sono Erika, come va? Ho la stessa maglia di un altro video precedente perché sto facendo un sacco di video tutti nello stesso giorno dato che da secoli che non li faccio adesso che ci ho ripreso la mano vado veloce comunque, questo video è l'aggiornamento sulle letture che ho fatto da novembre fino ad oggi, primo gennaio e niente, iniziamo allora, nell'altro video avevo parlato appunto di ogni giorno di David Levitan che avevo iniziato a leggere e comunque non ha deluso le mie aspettative infatti la fine è stupenda ha una fine un po' perta in realtà però ci sta a pennello proprio perché non poteva essere altrimenti ed è davvero un libro che ti segna nel profondo, devo dire e ti fa apprezzare quelle piccole cose che magari noi non pensiamo tipo svegliarsi e riconoscersi allo specchio oppure poter vedere sempre le stesse persone la storia d'amore tra lui e Rhiannon è davvero tra lui e il protagonista che è appunto quest'anima che ogni giorno si risveglia in un corpo diverso di 16 anni e appunto questa storia d'amore è abbastanza dolce cioè è stupenda anche se è tristissima ma vabbè niente, è stupenda e poi ah sì, avevo iniziato a parlare anche di Cercando Alaska di John Green che ho finito sull'ebook rispetto al mio pensiero iniziale cioè all'inizio non mi aveva preso tantissimo però andando avanti effettivamente ti prende e l'ho finito poi in pochissimi giorni cioè è solo un avvenimento che veramente diciamo colpisce perché per il resto narra la normale vita di un ragazzo che si è trasferito in una nuova scuola che dorme lì perché è in uno stato diverso dalla sua casa che è famicista con il suo compagno in distanza che viene soprannominato il colonnello e con questa ragazza che si chiama Alaska di cui poi si innamora appunto e comunque ci sono delle frasi stupende all'interno per cui vale davvero la pena di leggere il libro sinceramente io mi aspettavo questo colpo di scena che caratterizza il libro forse perché inconsciamente lo sapevo già perché l'avevo letto da qualche parte quando ancora non conoscevo bene il libro cioè ancora non conoscevo il titolo John Green non era così famoso comunque però vale davvero la pena di leggerlo anche perché per essere il romanzo di esordio era davvero scritto bene e niente poi io vorrei leggermi tutti i libri di John Green perché mi piace un sacco come scrive prima o poi lo farò magari quest'anno spero di riuscire a finire entro quest'anno tipo un libro al mese e poi poi sono dei libri invece che sono nuovi allora dato che nell'ultimo periodo avevo un sacco di verifiche ho letto uno di quei due libri lì che avevo preso alla fiera che praticamente avevo pagato 0 euro che erano alcune di quelle guide diciamo per tipo cavarsela con i ragazzi o cose del genere che in realtà sono inutili però a me piace un sacco leggerle cioè tipo sono come i test su non so su cioè sono inutili però a parte che chissà io non l'ho più visto cioè ne dico la boh non so nemmeno se esista comunque l'altro era tipo per trentenni questo anche che a noi gli piace abbastanza no scusate la verità è che a noi gli piace abbastanza di Greg Berend non so come si legga e Liz Tuccillo che in realtà io avevo preso perché ero convinta cioè proprio senza leggere niente pensavo fosse che fosse tipo il libro la cui hanno tratto il film che aveva un titolo simile comunque alla fine è abbastanza divertente vedere come ci sono delle persone che si arrampicano sugli specchi pur di non ammettere che la verità che appunto non piacciono abbastanza al ragazzo che invece a loro piace tantissimo magari poi c'è questo Greg che dà consigli però tipo poverine le ragazze tipo gli scrivono ma eh questo qui mi ha scritto però non so se è così ma ma magari è solo timido oppure non ha molto tempo così e poi arriva questo qui che gli dice no la verità è che non gli piace abbastanza e e quindi tipo cioè io avessi ricevuto una risposta del genere mi sarei tipo boh messa a piangere non lo so perché e lo dice in modo cattivo però poi allo stesso tempo ti fa anche apprezzare te stessa magari tipo ogni tanto ti ricorda che se spendi da così e basta non non vale la pena spenderci i soldi però se vi capita di trovarlo tipo perché non so che vi finisce come è successo a me che io praticamente non l'ho pagato perché l'ho preso in omaggio come libro in più ehm perché praticamente avevo comprato questa serie di libri enormi no tipo allora gli autisti mi hanno detto ma prenditi un altro libro tanto ormai ok allora ho preso questi qua perché gli altri non mi piacevano proprio a zero comunque e e ho scelto di leggerlo in questo periodo appunto perché comunque con la scuola non riesco a tenere il filo di una storia più intricata e quindi questo qui erano solo tipo capitoli di due pagine qualche lettera boh divertente per passare il tempo se non hai nient'altro da fare e non puoi leggere una storia continua poi a me tipo piacciono un sacco appunto le guide non solo di questo genere ma tipo anche quelle sulla legge dell'attrazione o ne ho letto un altro ma non mi ricordo adesso comunque mi intripo un casino con queste cose anche se sono inutili in realtà però vabbè ehm poi ah sì ho iniziato a leggere la saga di Harry Potter finalmente e ho letto Harry Potter e la pietra filosofale e la camera dei segreti ovviamente di J.K. Rowling non dovrei neanche starlo a dire comunque ehm eh sì sono davvero belli per quanto questi sono ancora i libri scritti in forma tipo da bambino perché comunque il protagonista ha 11 anni e niente non penso di avere altro da dire sul maghetto più famoso del mondo perché voglio dire chiunque conosce la storia di Harry Potter penso a parte forse mia cugina che non ho mai visto il film cioè vabbè lasciamo parlare perché mi viene nervoso se no scherzo le voglio mondare bene comunque ehm il primo libro è davvero infantile perché comunque però ha questa atmosfera di magia e di cose fantastiche che è davvero stupenda e boh tipo vorrei essere anch'io lì a Hogwarts e potermi comprare tutte quelle cose stupende in diagonale e vabbè ok e invece dal secondo quindi dalla camera agli segreti inizia a a farsi la storia un po' più pesante diciamo nel senso non nel senso che pesante la lettura anzi perché l'ho letto in un giorno tipo ma nel senso le tematiche diventa un po' più cupa e c'è sempre più mistero e effettivamente secondo me il motivo per cui piace a parte tutte quelle cose magiche stupende che vorrei tanto essere lì comunque a parte quelle cose l'altro motivo per cui secondo me piacciono questi libri è che comunque c'è questa traccia di giallo e non mi sorprende il fatto che la Rowling poi sia finita a scrivere romanzi gialli come richiamano il cuculo che prima o poi leggerò dopo aver finito la serie di Harry Potter ovviamente e niente davvero stupendo chi non l'avesse ancora iniziata a leggerla iniziate a leggerla dai ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi ho iniziato già Il prigioniero di Azkaban sono tipo pagina 100 e boh spero di finirlo prima della fine delle vacanze anche se dovrei leggermi anche tre libri di scuola e non li ho ancora iniziati sono dei casini scusate vabbè comunque prima o poi ce la farò perché tanto cioè tipo questa settimana ho letto un libro al giorno boh ero presa benissimo con le letture e poi l'ultimo libro che ho letto sto andando veloce perché non voglio fare un video lunghissimo per annoiarvi tanto probabilmente ne dovrò fare uno fra un altro mese visto che ho appunto i libri delle vacanze da leggere e l'altro libro che ho letto che ho finito proprio tipo l'altro ieri è questo Milioni di farfalle di Eben Alexander che racconta appunto di questo neurochirurgo americano che è sempre stato scettico riguardo tipo la fede a credere in Dio tipo nel 2007 mi pare viene colpito da una meningite batterica dai scricchiacoli e quindi rimane in coma per sette giorni o sei o sette giorni e quando si risveglia praticamente è intatto perché allora è una cosa abbastanza scientifica comunque la meningite batterica è una di quelle malattie che tipo ti mangia il cervello quindi anche nel caso assurdo in cui tu ti risvegliassi dopo il coma che comunque di sette giorni è già tantissimo cioè è proprio un miracolo il fatto che questo medico si è risvegliato vivo e per di più con la mente intatta e comunque questa meningite batterica ti divora il cervello la cosa strana è che lui ha avuto una meningite batterica dai scricchiacoli le scricchiacoli è un batterio mi pare che si trova nello stomaco e quindi teoricamente lui non potrebbe avercela avuta nel cervello a meno che non avesse fatto tipo un intervento di di neurochirurgia oppure avesse avuto tipo un trauma cranico molto forte cosa che però lui non è successa tipo il giorno prima stava benissimo il giorno dopo si è svegliato e aveva tutti questi dolori quindi è stato portato in ospedale è entrato in coma e per sette giorni non si è più svegliato e lui afferma che durante questi sette giorni nonostante teoricamente non avrebbe potuto fare tipo sogni o pensieri perché appunto c'era la parte della neurocorteccia che è quella che si occupa di queste cose che era completamente disabilitata a causa di questi batteri però lui afferma di aver tipo di essere entrato in non so neanche come descriverlo in un altro mondo e di aver visto delle cose per cui ha capito che doveva credere in Dio e vabbè non vi so raccontare benissimo l'esperienza perché tanto se volete se vi interessa davvero tanto se vi piace questo genere di letture potete leggerlo però non vi consiglio di acquistarlo perché secondo me non è non è molto cioè per carità non metto in dubbio il fatto che cioè vabbè mettiamo anche il caso che sia capitata davvero questa cosa ovviamente non mi metto a controllare tutti tutti non so non è che vado a fare la spia in giro a cercare la sua cartella clinica da qualche parte per vedere se veramente è successa questa cosa mettiamo anche il caso che lui abbia davvero sognato questa cosa comunque il modo in cui la racconta è un po' troppo romanzato ci sono troppe cose che fa combaciare secondo me a forza tipo lui dice di aver sognato cioè dico sognato però perché non so trovare un termine adatto a questo tipo di esperienza comunque lui dice lui dice di aver sognato una specie di angelo che lo rassicurava e gli diceva che sarebbe tutto andato tutto sarebbe andato bene e poi casualmente quando si sveglia un anno dopo vede la foto di sua sorella biologica perché lui è stato adottato e vede la foto di questa sua sorella biologica che era morta diversi anni prima e la riconosce come quest'angelo però lo fa in modo troppo romanzato secondo me se devi raccontare una cosa che è vera non c'è bisogno di arricchire così tanto di frozzoli una cosa perché se è vera è vera appunto e invece come la racconta lui sembra quasi cioè non sembra una cosa vera sembra una cosa inventata apposta per scrivere un libro e a me è quello che mette il dubbio oltretutto ci sono delle parti in cui si perde troppo in spiegazioni scientifiche di cui se sei una persona che assolutamente non conosce niente di medicina tipo me bastano molto meno informazioni per fargli afferrare il concetto mentre se è una persona che ha studiato medicina non gli serve leggersi quelle informazioni perché teoricamente dovrebbe già conoscerle penso e niente quindi questo libro non l'ho comprato l'avevano tipo prestato a mia madre è solo che lei non aveva avuto tempo di leggerla allora l'ho letto prima io e quindi pensavo che fosse una lettura interessante però in realtà non so per contro mia mamma invece mi ha consigliato di leggere la vita oltre la vita non so come si chiama il sutore comunque parla sempre di questo genere di esperienze però dice che dovrebbe trasmettere più cose perché comunque lei ha dato un'occhiata a questo libro però non l'ha letto per intero quindi io sinceramente non mi consiglio di acquistarlo però se volete farvi un'idea giusto per capire quello che intendo perché è davvero difficile spiegarlo magari trovatelo in biblioteca così però è tanto una cosa che sa di propagazione di sé non so come si dica comunque è come una cosa fatta a scopo promozionale per sé stesso questo libro sembra quindi non so comunque vi saluto perché manca pochissimo tempo ci vediamo in un prossimo video ciao